a piedi non voglio stricci questa vedo no con capriola con dolori ok non tanto che non che ti permettono proprio ridrizzare questa gamba ancora una volta basta che ti piace e vai a stazione copriola basta basta torna per oggi quanto sarà 1.20 sarà dopo di lotta abbiamo tempo 8.21 parte 2.20 2.20 2.20 Grazie. No, hai ricordato, mi ha battuto. No, hai ricordato, hai ricordato, hai ricordato. Pieno. Sei entrato da sopra? Io volevo fare altro. Volei fare questo, casetta, e poi volevo entrerci sulla schiena, che tu mi hai preso. No, hai ricordato, hai ricordato, hai ricordato, hai ricordato. No, hai ricordato. Ok. Hai ricordato, hai ricordato. No, hai ricordato, hai ricordato? No, hai ricordato. No, hai ricordato. No. 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 No.